E' di oltre 200.000 euro il costo degli interventi necessari per il ripristino della viabilità in numerose arterie che la provincia di Arezzo dovrà stanziare per rimediare i danni causati dal maltempo in questi giorni. Un dato arrotondato per difetto è destinato a gonfiarsi nei prossimi giorni con la speranza che la regione dichiari lo stato di emergenza e stanzi così i fondi necessari per riportare tutto alla normalità. Il terreno era satolo di acqua e quindi le piogge copiose di questi ultimi giorni hanno prodotto frane e smottamenti diffuse in maniera abbastanza uniforme purtroppo su tutto il territorio. 8 famiglie di Laterina, circa 40 persone in tutto, hanno rischiato di dover lasciare le proprie case nella notte tra lunedì e martedì. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 quando l'invaso di La Penna è arrivato a scaricare 900 metri cubi d'acqua al secondo, soglia oltre la quale scatta il protocollo delle emergenze che prevede l'evacuazione di alcune case a rischio esondazione. Evenienza che non si è realizzata e poco dopo le 2 l'allarme è rientrato. In maniera particolare è stato colpito l'Alto Casentino, i comuni di Poppi, di Chiusi della Verna, c'è una brutta frana per quanto riguarda l'accesso al monastero di Camaldoli su cui stiamo cercando di fare la stima per poter intervenire e anche il Val d'Arno è stato oggetto di numerose frane o anche piccoli smoltamenti.